il vento soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai di dove viene né dove va così è di chiunque è nato dallo spirito cari amici fratelli e sorelle questa domenica il signore dà giù duro con la sua parola che è successo in questo capitolo di marco il capitolo nono un padre si era recato da gesù per dire che suo figlio era tormentato da uno spirito e nessuno dei discepoli di gesù era riuscito a scacciare questo spirito dal tuo figlio e gesù dirà perché certi certe situazioni si scacciano solo con il digiuno e la preghiera come per dire sono gente di poca fede evidentemente sta parlando dei suoi discepoli gesù subito dopo invece che succede giovanni il più giovane che nella nostra mentalità dovrebbe essere quello più aperto alle inclusioni all'apertura agli altri in realtà qui sta ad indicare il piccolo era il più giovane degli apostoli che si è montato un pochettino la testa evidentemente vada gesù a dire vedi che stanno alcuni che hanno compiuto dei miracoli nel tuo nome che non ci seguono non sono dei nostri beh qui sta il problema ma chi è che bisogna seguire i discepoli o cristo non ha detto non seguono te no non seguono noi non sono del giro nostro come per dire che tutte quelle volte in cui qualcosa non rientra nei nostri schemi nei nostri giri nelle nostre definizioni non va bene qui bisogna stare attenti perché ci troviamo a combattere tra la ragione e la comunione tra il principio e il bene delle persone se una cosa è buona è buona universalmente molte volte invece quando tu sai fare meglio di me qualcosa io comincio a provare invidia risentimento nei tuoi confronti addirittura uno psichiatra psicoterapeuta e filosofo carl justav jung scrive tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi e sì questo può succedere anche nelle comunità cristiane quando ti è stato affidato un servizio e tu lo ritieni il tuo regno nessuno deve permettersi a mettere mano a mettere voce in quello che ti è stato affidato dalla chiesa non è così perché per salvaguardare l'esclusiva nostra diventiamo rigidi e tutte le volte che ci irrigidiamo non salvaguardiamo più il principio dell'inclusione dell'apertura il bene quando è bene bisogna riconoscerlo come tale non è che perché hai fatto tu una cosa buona io devo essere risentito perché io magari non la so fare anziché compiacermi con te che la sei fare viva dio anziché dirti mi aiuti a farla mi insegni a farla subito lì il puntare il dito il parlare empio ecco perché gesù dice chi non è contro di noi e per noi nessuno può fare un gesto nel mio nome e poi parlare male di me e qui sta ad indicare appunto questo principio assai importante e qui poi il dito viene puntato su di noi anzitutto nella capacità di accoglienza basta dare un solo bicchiere d'acqua e lì può cominciare già una relazione e poi chiunque scandalizza uno di questi piccoli è meglio per lui che gli si metta una macina da mulino al collo e si è gettato in mare la peggiore delle fini che potesse fare uno perché non avrebbe avuto mai sepoltura immagino la macina da mulino appesa al collo penso alle pietre di macina che si adoperavano ai nostri frantoi per per la molitura delle olive e dice una cosa pesante chi sono questi piccoli non si tratta semplicemente di uno scandalo di manatura morale si tratta di essere d'inciampo a un fratello fragile nella fede un incipiente con il nostro comportamento con le nostre parole con i nostri gesti e poi se la tua mano il tuo occhio il tuo piede che occasioni di scandalo taglialo cavalo taglialo meglio per entrare con un membro solo che con tutte le membra nella valle della genna la genna era la valle a sud di gerusalemme l'immondezzaio perenne perché lì avevano immolato dei bambini sacrificando gli dei dei bal e quindi lì c'era l'immondizia che ardeva notte giorno la puzza eccetera non è non indica le fiamme dell'inferno anzi l'immaginario che c'è sull'inferno è stato preso da quella valle perché dice questo perché evidentemente quando il mio occhio mi occasione di scandalo quando sono invidioso quando sono geloso quando la mia mano è un'occasione di scandalo quanto punto quando punto il dito quando anziché accarezzare schiaffeggio quando il mio piede è un'occasione di scandalo quando torno sui miei passi per consumare la vendetta e allora viviamo questa domenica cari amici fratelli e sorelle con questa consapevolezza grande il signore ci ha affidato una testimonianza da rendere all'umanità la capacità di mettere davanti a ogni cosa il bene di tutti la comunione l'apertura ci aiuti il signore con un abbondante dono dello spirito ad aprire la nostra testa e soprattutto il nostro cuore buona domenica a tutti e buona festa dei santi arcangeli michele gabriele raffaele raffaele